Sì, è il nostro vagone di un anno fa. Sono successe tante cose. Chissà che velocità raggiunge il suo vento di terra. Lo saprei non chiedere a voi. Arteon, siamo in posizione. In attesa di ordini. Sì. 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 Grazie a tutti Grazie 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 Cerca di salire su quel rimorchiatore. Noi ti copriremo. Ripassiamo di nuovo il piano. Quando il rimorchiatore sarà nelle nostre mani, io, Sam e Iota torneremo all'Aurora. Mentre Archeon, Duke e Crest porteranno la barca al ponte. Buona fortuna a tutti. Resta nell'ombra. Mi sa che c'è qualcuno sopra di noi. Visto? Lassù! C'è un uomo a terra! Fatti vedere solo per un attimo. Lassù! Eccolo là! Apriamo il fuoco, l'hanno visto! C'è un uomo a terra! Calvati, l'ho preso. Colpito! Ah! Una tira infarribile! Salvatino preso. Vedo il delico! Dietro ai sacchi di sabbia! Uomo a terra! Lo vedo, gente! Adesso! Serve una ricarica! Allora lassù! Cosa stava? Incerita! Cosa stava? Prendi questo! Il nemico è dietro ai sacchi di sabbia! Amico! Allora... ồn... diしpa! Sì! Ehi! Anche si vede a mio protokera! Mecadere! Ehi! Sì, non è vero. Chi è? Prendi questo! Un nemico! Lai in fondo! Attenzione! È il nemico! Salma, ti lo preso. Prendi il nemico! Prendi il nemico! Eccolo lì, dietro alle casse! Prendi il nemico! 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 Le chiatte sono libere, prendiamo il ponte. Non sparare, non sparare, posso pagare! Le merci sono due, prendi le merci! Tranquillo, siamo noi! Buon lavoro, Artyom! Artyom, tutta la squadra è salva! Ottimo lavoro! Non è andata in modo del tutto pacifico. Siete tutti pronti a partire? Troppo tardi se non lo siete, non c'è tempo da perdere! Buona fortuna, ragazzi! Spero che il vento vi sia favorevole e che le acque siano calme. Artyom, fai attenzione! Già, speriamo che la fortuna ci assista! Venti favorevoli! E' viva! Tutti ai loro posti, leviamo l'ancora! Ci porteremo a metà strada, poi aspetteremo tra le canne fino alle 4 di mattina. Dobbiamo arrivare presto, quando la nebbia è fitta e sono ancora tutti i mezzi addormentati dopo la preghiera del mattino. Grazie a tutti!